Ma io penso che a Roma, al di là della questione giudiziaria, che è sicuramente gravissima, però mi sembra che il sindaco non abbia amministrato bene fino a questo momento. Ma il prefetto, secondo lei, ha tentato di salvare capra e cavoli? Che ha fatto? Ma probabilmente si è trovato in una posizione molto difficile, perché è evidente che è un'amministrazione che ha già dei problemi dal punto di vista della gestione. Mi sembra che i cittadini romani in primis non siano molto contenti di questo sindaco. Ha usato un eufichismo. Non è il sindaco, contenti di come va la città. Ma come va la città? Poi, ovviamente, solitamente la prima persona con la quale ti interfacci è proprio il sindaco della tua città. Poi magari non tutte le colpe saranno sue, assolutamente. Però è evidente che questa città negli ultimi anni purtroppo ha avuto grossissimi problemi. E poi si è infilata anche questa situazione giudiziaria che è sconcertante. E quindi, insomma, è evidente che Roma deve ripartire, perché Roma comunque è anche un po' un simbolo. È evidente che ci sarà il giubileo, ci sono tante manifestazioni. Si cambiano le Olimpiadi. Certamente, però per avere una certa credibilità bisogna riuscire ad avere comunque persone al comando che siano oneste e sulle quali non vi siano assolutamente dei dubbi.